L'Ige Virtus torna al Dal Contres e ospita l'Ercolanese nella quintultima giornata di campionato. Un match fondamentale per i barcellonesi, attualmente quarti in classifica con 54 punti, che di fronte si troveranno la quinta forza del campionato, reduce dal K.O. al Franco Scoglio contro il Messina e ferma a quota 51. Quelle tre lunghezze di distacco fanno attualmente la differenza nel piazzamento playoff e per questo la formazione di Raffaele non deve assolutamente sbagliare. Quello che diventa, dati alla mano, lo scontro diretto del momento L'Ige Virtus non può e non vuole sbagliare perché è un successo, lo porterebbe a più sei dal quinto posto, ma soprattutto a mantenere o ampliare quel bottino di nove punti che vanta sul sesto posto, occupato invece dalla Cireale. La matematica certezza di un piazzamento per gli spareggi è vicina, ma servirà a vincere e superare uno degli ultimi difficili ostacoli della stagione. Raffaele sa inoltre che la prossima settimana ci sarà la Vibonese da sfidare, attualmente al primo posto al pari di Troina e Nocerina, impegnata in un vero e proprio campionato a parte per decidere chi si aggiudicherà la vittoria finale del Gironei. Si infiamma quindi il finale di stagione e il dal Contres è pronto ad ospitare l'Ercolanese. Servirà anche il dodicesimo uomo col supporto del pubblico che potrà diventare ancora una volta l'arma in più dell'Igea Virtus.